Mercoledì 1 luglio inizia la rassegna del Giardino di Alcesti, ormai è da quattro anni che ogni estate nelle varie recreation del nostro comune vengono fatte delle rappresentazioni teatrali con sottofondo musicale. Quest'anno la rassegna è dedicata a Dante Alighieri e alla Divina Commedia. Mercoledì 1 luglio appunto partiamo dal chiostro di Villa Casa Grande, quindi una demora storica nel centro del nostro paese e per ogni mercoledì nelle varie frazioni del territorio saranno rappresentati i canti di Dante Alighieri e della Divina Commedia. Quindi appuntamento successivamente al Burchio, alla Massa, a Cota Agli Stolli e a Gaville, si raccomanda comunque la prenotazione nel pieno rispetto della normativa anti-Covid e ci fare opportuno che finalmente si possano anche ricominciare gli eventi che possano dare un po' più di serenità ai nostri cittadini.